Siedi in silenzio e cominci a osservare il tuo respiro. Il punto di osservazione più semplice è all'entrata del naso. Quando il respiro entra, avverti nel contatto all'inizio del condotto nasale. Osservalo da questo punto. Il contatto sarà più facile da osservare, il respiro sarebbe troppo sottile. All'inizio limitati a osservarne il contatto. Il respiro entra e tu lo senti entrare. Osservalo. E poi accompagnano. Seguilo. Scoprirai che a un certo punto si arresta, si ferma da qualche parte vicino a un bellico, per un attimo. Quindi risale verso l'esterno. Seguilo. Di nuovo percepisci il contatto del respiro che fuoriesce dal naso. Seguilo. Accompagnalo verso l'esterno. Di nuovo arriverai a un punto in cui per un attimo, brevissimo, il respiro si arresta e il ciclo riprende un'altra volta. Ispirazione, pausa. Ispirazione, pausa. Ispirazione, pausa. Ispirazione, pausa. Dentro di te quella pausa è il fenomeno più misterioso. Quando il respiro è entrato in te e si è fermato, non c'è nessun movimento. Quello è l'attimo in cui si può incontrare Dio. Oppure quando il respiro esce e poi si arresta e non esiste alcun movimento. Ricorda, non lo devi arrestare tu. Si ferma da solo. Se lo interrompi volontariamente, quell'istante ti sfuggirà. Perché colui che agisce interferirà e scomparirà il testimone. Tu non devi interferire, non devi alterare il ritmo della respirazione, non devi né inalare né esalare. Non è come il pranayama dello yoga, dove tu intervieni per controllare il respiro. Non è la stessa cosa, non alteri affatto il respiro. Lascia spazio al suo fluire naturale, alla sua naturalezza. Lo segui quando esce, lo segui quando entra. E presto ti accorgerai dell'esistenza di due pause. In queste due pause si trova la porta. In quelle due pause perverrai alla comprensione. Vedrai che il respiro in se stesso non è vita. Forse è nutrimento per la vita, come altri cibi, ma non è la vita. Perché quando il respiro si arresta, tu sei presente, assolutamente presente. Sei perfettamente consapevole, assolutamente cosciente. E anche se il respiro si è arrestato, se il respiro non c'è più, tu ci sei ancora. Praticando questa osservazione del respiro, che il Buddha chiama Vipassana, oppure Anapalansati Yoga, se continui a osservare, a osservare, a osservare, ti accorgerai che pian piano la pausa aumenta e si allarga sempre di più. Alla fine accade che la pausa dura per diversi minuti, un'ispirazione è la pausa e per alcuni minuti il respiro non esce. Tutto si è fermato, il mondo si è fermato, il tempo si è fermato, il pensiero si è fermato. Perché non è possibile pensare quando il respiro si arresta. E quando il respiro si arresta per diversi minuti, è assolutamente impossibile pensare, perché il processo del pensiero ha costantemente bisogno di ossigeno e il tuo processo cognitivo è profondamente connesso con la respirazione. Quando sei in collera, il respiro ha un ritmo, quando sei eccitato sessualmente, ha un altro ritmo. E quando sei in silenzio, il ritmo del respiro cambia di nuovo. Quando sei felice, hai un ritmo di respirazione. E quando sei triste, ne hai uno diverso. Il respiro cambia secondo gli umori della mente. Ed è vero anche il contrario, quando il respiro cambia, cambiano anche gli umori della mente. E quando il respiro si arresta, anche la mente si ferma. Con l'arrestarsi della mente, il mondo intero si ferma. Perché la mente è il mondo. E in questa pausa riuscirai a percepire, per la prima volta, il respiro all'interno del respiro, la vita all'interno della vita. Questa è un'esperienza liberatoria. È un'esperienza che ti rende più sensibile nei confronti di Dio, poiché Dio non è una persona, ma l'esperienza della vita stessa. La meditazione è semplice gioia per il proprio esistere. La meditazione è semplice gioia di essere nel proprio essere.